Salve a tutti, sono appena stato a un incontro con alcuni consulenti aziendali, imprenditori e l'argomento un po' dell'incontro si è indirizzato verso il commercio elettronico, l'e-commerce. Viene riconosciuto un grandissimo ruolo a questo canale di vendita e di acquisto ovviamente da parte delle aziende italiane, però ancora ciò che credo sia giusto segnalare è che nonostante gli indubbi progressi registrati pure in questo paese, in Italia, ancora le piccole e medie imprese hanno un approccio non propriamente determinato su questo versante. Questo perché probabilmente si tende un po' ancora, anche se rispetto una volta meno, questo va assolutamente evidenziato perché è giusto farlo, si tende ancora a ricalcare un po' le tracce del già detto, del già fatto. Abbiamo sempre fatto così, abbiamo i nostri agenti che fanno il giro dei clienti, facciamo le telefonate eccetera, invece no, invece questo è limitare la possibilità per la propria azienda in ambito delle vendite. Bisogna avere le idee chiaramente molto precise, molto esatte, avere un'idea molto precisa, ripeto, di quelli che sono i targets di riferimento, di quelli che sono la quota di mercato che si vuole raggiungere, qual è il valore aggiunto del prodotto che vogliamo vendere tramite il canale online, tramite il canale digitale. Però ecco, anche se tutto questo richiede un impegno, non tanto dal punto di vista dei costi, perché guardate, fare e-commerce oggi sul versante proprio della struttura del presidio telematico, il sito internet, comporta dei costi estremamente accessibili per chiunque, anche per il piccolissimo dettagliante, assolutamente. Altre cose riguardano ovviamente gli aspetti logistici, cioè delle consegne dei prodotti al destinatario, che può essere in Italia, che può essere anche all'estero, può essere anche in un altro paese al di fuori del continente europeo, ma quello è un altro discorso. Però va da sé che occorre a tutti gli effetti, anche oggi, specialmente oggi, dopo due anni molto difficili per colpa dell'emergenza gravissima emergenza pandemica, che non ha fatto altro che contrarre le vendite e quindi le attività produttive di vendita in tutti i comparti, qualcuno più, qualcuno meno, ma tutti hanno subito delle contrazioni dei fatturati importanti nel 2020, ma anche nel 2021, per quanto iniziava già una ripresa significativa grazie all'avanzare della vaccinazione di massa. l'e-commerce è una grande opportunità anche nell'ambito e per le piccole e medie imprese, le PMI. Non capire questo, oppure avere una sorta di retaggio culturale che vede nell'innovazione, nei canali digitali, una sorta di mondo un po' particolare, un po' misterioso. Guardate, il mondo digitale non è radioattivo, non è innestare una Chernobyl sotto casa, vuol dire aprirsi a delle nuove e importanti opportunità. Poi certamente ci vuole metodo, ci vogliono idee chiare. Quando serve, perché no, ricorrere anche a un consulente o a un team di esperti, per quanto meno per la parte iniziale, quando si fa la start-up del progetto. Però è un peccato, ripeto, mi permetto di sottolineare, che le piccole e medie imprese italiane, non tutte, però una parte ancora non così marginale di esse, non approcciano il canale dell'e-commerce, pur avendo, magari nella propria gamma di prodotto, delle eccellenze, dei prodotti che hanno e che avrebbero delle ampie potenzialità di penetrazione sul mercato domestic market, il mercato italiano, ma anche nei mercati internazionali. Quindi esorto non soltanto le piccole e medie imprese che ancora stentano su questo versante, ma un po' a chiunque si occupi di terziario avanzato, quindi di servizi alle imprese, a fare da divulgatore delle potenzialità dell'e-commerce. Oramai possiamo dire dall'inizio del 2000 che l'e-commerce, seppur gradualmente anche nel nostro paese, ha spiccato il volo, possiamo dirlo. Ci sono comparti che hanno risultati più importanti, altri meno. Ma è importante assolutamente non perdere questa opportunità. Quindi e-commerce e piccole e medie imprese, certamente con metodo, ma certamente sì. A presto per un altro video, sempre con Marco on the News. Ciao a tutti.